Benvenuti. Oh, salve. Cellule cancerogene eliminate. Vedo che non è cambiato niente. Guarda che non è colpa mia. Rubi ancora macchine? No, da quando sono uscito cerco di fare una vita normale. Ma che cazzo mi avete fatto? Dovrebbe lasciarmi andare. Mi risulta che sei tu quello chiuso qui dentro e io un'arma. Se la cosa ti sembra strana è perché lo è. Lui è un essere umano modificato. Più forte. Più veloce. Più intelligente delle persone normali. Le condizioni del signor Welles sono piccole. Vai! Andrà tutto bene. Non ci servivano tutti quei succhi acazzi addosso. Sei la notizia del giorno. Attivate, Kruget. Seguimi. Stammi vicino. Vai! Destinazione, guarda mano. Ti darò la caccia. Vino in capo al bordo per questo. Tu e quel tuo amico di merda. Voi non avete idea di quello che fate. Voi non avete idea di quello che fate. Vino in capo al bordo per questo. Grazie a tutti